Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sì, adesso ti do la cosa Eh, Michi! Quella lì che hai detto è tua madre, ma tua madre mi è messa a piccola però Impari, impari, un po' di rispetto per le persone, io vengo a dirvi a voi Ciao, vostra madre troia, mignota e puttana, un po' di educazione, non è serata, già mi sono incazzata Quindi, bene, andate a insultare gli altri, andate a insultare, andate a insultare le altre persone Ma cin, cin, blin, blin, so che giallo! E nei fuochi son giallo! Blin, blin, can't stop it! Dio di quel dio, se sto lavorando! Non accendete quel cazzo di farlo! 10.000 patatine... Domenico! Ma mi scusi! Ma come buongiorno così! L'SGO! Grazie Dome! Mi faccia scrivere al Sion! Mi faccia scrivere al Sion! Ciao! Come no, Nicex! Ciao Frascax! Alleluia! Attenzione! 70! 52! Sopra Prindachito! 140! Piano, piano, piano! La Paglia di 13 che stasera? Lo so, è fuori con sua mamma, quindi a meno che non abbiano due amanti, uno ultra l'ottantenne e uno per la Pami, non lo sappiamo Attenzione! 34 in! E si prosegue! Non sono al current! Io vado a prendere il mio bastone nel culo! Quindi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questa live! Incredibile! Una vittoria reale! Vittoria di prima fatta da Merstac! Merstac è in Malibuca! Il signor Vontrex intanto che nel CIL tanca come un drago, non si capisce bene! Eh, ma qua è tutto diverso! C'è una lobby sola, te la gestisci easy! E qua bisogna vedere se Vontrex si rende conto che adesso la possibilità di non essere pushato è alta, è devastante! Intanto, ciao Federico! Grazie per il Prime! Sion! Let's go! Grazie per i 16! Ciao Davide! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Buon attento! Ci sono dei kit in più che si può fare tranquillamente, quindi... Mi piace il tuo tranquillamente Ace? Eh, ci arrivo! Se si fai le cure... Eh... Le cure cazzo mi faccio Ace? Si, si, si! Porco... MAANCHIO! Eh, vabbè, ma se tua madre succhia i cazzi a due alla volta non è colpa mia! Figlio di puttana col cazzo di merda! Di tua madre bastarda che c'ha il cazzo! Questo è l'unico che c'ha la madre col cazzo! Non sappiamo com'è sta storia! Io, 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 oh! Oh, Gov grande pazzo! Io, oh, oh! Oh, cazzo! Anche lo tocchi? Ti porto poi un AUG! Ma vai a fare... Dai, vai a fare il culo figlio di puttana! Con la madre troia succhia cazzi! Prendi cazzi! E tuo padre porco diaz che finiva tutto il cazzo di lavoro di bocca a bastardo! Stai andando al don dentista? Mi fa il suo ultimo game! Non dubito fortemente che avranno le tre! Sono più convinta che avranno le quattro! Se non do fastidio parlando così, faccio il tuo game! Divorziamo noi! Io non ti voglio più! Io non ti voglio più! Mezzanotte ciucciami! Mezzanotte! Dalle 10 di stamattina! Domani non attacchi alle 10! Domani attacchi più tardi! E quando stiamo assieme nel mentre e nel mai! Quindi cosa devi fare adesso? Sei venuto a prenderti da mangiare? No! Avrei mangiato quattro! Eh? Ho capito! Ma a cazzo! Non è colpa mia! E allora se sono dei shishamani e per cosa ci dobbiamo fare? Non me ne frega un cazzo! Ma ti rendi conto che dalle 10 di stamattina? Ti rendi conto che dalle 10 di stamattina cosa viene detto? A mezzanotte e mezzanotte perché l'ultimo gioco è a mezzanotte! Eh? Hanno avuto dei problemi di server! Ma! Me ne frega! Devi castare per forza fino alla fine? Si sbreda tutto comunque! Si sbreda tutto! Se veni qua a mangiare alza culo sbrigati e togli la camicia! E quindi io come li prendo? Eh? Oh 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 oh! Cioè non li prendo! Affanculo va! Tutto barda... Ma che c... Ma vai a cagare inculati con una banana! Ma vai a cagare! Tra i harder di merda in pubblica! Ma vai affanculo va! Ah ficcati nel culo un cetriolo va! E godi forte! Ciao Thunder! Grazie dei 13! Ma vai a cagare! T'ho bardato! Ma che cazzo vuoi! Pezzo di merda! Avevo solo quello avevo! Non puoi rischiartelo! Yupi 3 R7 sottolineatura! Due mesi! Ciao Zuuu! Ti prepari solo due e falò? Cioè se... Porco porco Giuda! Ciao amore mio! Mua! Merda mi ha toccato e mi ha spaventato! Ehm... Pensi di andare sulla mia scheda? Ah si! No guardalo dietro! Andiamo a prenderlo! Uno 28! Si si! Quello di sinistra! 17 bianco! Let's go! Oh! Collateral! Let's go! Il mio primo collateral! Easy! Ha fatto la collateral! Let's go! Reclipiamo! Merda il cazzo! Merda! Certo che sono un poeta io figa! E adesso vi reciterò anche una poesia! Mi sveglio la mattina, mi alzo e tutto tace! Arrivo davanti al mio computer accendo e tutto tace! Poi arrivano gli snappi e bestemmio! Questa era la mia poesia ai posteri! Non stavano sparando a me ovviamente! Cioè stavano sparando a me ma non... Non sanno che tu ci sei! Ok non stanno! Fate uccidere! Fate uccidere! Vabbè! Vabbè! Questi cazzo vanno ancora qua! GG! Allora subito! Mi dovete succhiare le palle! Pezzi di merda ingoiatele! Figli di puttana! Ingoiami sta cazzo di minchia! Tu e quella puttana di merda! Che ti ha messa al mondo! Ti doveva ingoiare! Brutta merda! Suca brutta merda! Ingoiare ti doveva! Merda! Sei un cazzo di aborto che cammina! Bastardo! Coglione di merda aborto del cazzo! Ma vai a fare in culo e fatti ingoiare la prossima volta! Idiota di merda fallito del cazzo! Ciucchiacazzi di merda! Te e quella puttana del cazzo che ti ha messa al mondo! Andiamo al Volt! Il cazzo ci dovete succare! Bastardi! Suca pezzo di merda! Guardami in faccia! Suca pezzo di merda! Guardami! Guardami! Suca! Figlio di puttana! Succalo tutto! Succalo tutto! Siamo già a otto eh! Io non voglio commentare quello che ho appena visto! Ma che cazzo stai dicendo? Siamo! Merda! 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 Tudor! Lei cosa ne pensa sulle LGBT e i emo? Io penso che finchè la gente non mi scassa i coglioni non me ne frega un cazzo di niente! Dal momento che il primo comincia a rompermi il cazzo che sia quel cazzo che è allora diventa un problema! Ma per il resto... Ma che cazzo me ne frega! Ma è vero ragazzi! Cioè le persone che si fanno dei problemi per come altre persone vivono la loro vita hanno i problemi! Luke sono tuo padre! No! Mi sembra che sei la mamma del Manu! Oh! È una spada laser da combattimento! Ora io non... Ma ci puoi anche affettare il prosciuttino con questo! Non lo so!